Microsoft acquisirà dal consorzio Blackstone-Thompson Reuters una partecipazione del 4% nell'On-None Stock Exchange nell'ambito di una partnership strategica decennale per le soluzioni di dati e analisi e per l'infrastruttura cloud di nuova generazione. L'On-None Stock Exchange prevede che la crescita dei ricavi aumenterà in modo significativo nel tempo con l'entrata in funzione dei nuovi prodotti. Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo della divisione cloud e intelligenza artificiale di Microsoft, sarà nominato amministratore non esecutivo di l'On-None Stock Exchange Group. I progressi del cloud e dell'intelligenza artificiale, ha spiegato Satya Nadella, presidente e CEO di Microsoft, trasformeranno radicalmente il modo in cui le istituzioni finanziarie ricercano, interagiscono ed effettuano transazioni tra le varie classi di asset e si adattano alle mutevoli condizioni di mercato. In base agli accordi, la piattaforma dati di l'On-None Stock Exchange Group e altre infrastrutture tecnologiche chiave migreranno nell'ambiente cloud azure di Microsoft. Workspace, la soluzione di nuova generazione per il flusso di lavoro dei dati e delle analisi di l'On-None Stock Exchange Group, diventerà interoperabile con alcune applicazioni Microsoft e le società prevedono di introdurre nuovi servizi innovativi di analisi basati sul cloud. Il mercato è un mercato digitale basato sulla tecnologia cloud, con l'obiettivo di trasformare il modo in cui i partecipanti al mercato interagiscono con i mercati dei capitali in un'ampia gamma di attività.